La visita dell'ambasciatore cinese a Città della Scienza, l'occasione per conoscere alcune delle realtà locali nei campi della ricerca e dell'innovazione. Margherita Rosciano. 10 anni di progetti in cooperazione tra Italia e Cina, l'incontro a Città della Scienza con l'ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese, Li Kuan Hua, accompagnato dai ministri per la Scienza e la Tecnologia e l'Economia, ad accoglierli il presidente Riccardo Villari, il direttore generale Massimo Cavaliere e il consiglio di amministrazione della Fondazione IDIS, rappresentato da Pina Tomasielli. Tra i temi di dialogo il Sino Italian Exchange Event, promosso dalla regione per l'internazionalizzazione dei sistemi di ricerca e di impresa, consolidato dalla cooperazione bilaterale ed il China Italy Innovation Forum, negli anni ben 140 gli accordi firmati. Durante l'incontro, illustrate le buone pratiche in quattro realtà campane, CNR, Fondazione Pascale, Cira e Mann. L'ambasciatore ha visitato anche l'incubatore d'impresa New Steel, incontrando due start-up, Tolemaica ed Elisa. Da entrambe le parti la conferma, felici di continuare una solida collaborazione. Vorrei ricordare che in questi anni della pandemia, in questi due anni, il nostro rapporto con la Repubblica Popolare Cinese è sempre continuato costantemente. Abbiamo qui l'infrastruttura in città della scienza, che appunto è denominata Italia-Cina, che dialoga costantemente in campo scientifico con i rappresentanti della Repubblica Popolare Cinese.